Una tazza azzurra colma di latte bianco è il simbolo del progetto Alimentiamo la vita insieme, iniziativa che vede unite due realtà di eccellenza del territorio marchigiano, la Trevalli Cooper Latta, azienda leader del settore lattiero caseario, e la Lega del Filodoro, associazione tra le più note nell'assistenza ai bambini sordociechi. Per i prossimi tre anni lavoreranno alla realizzazione di un percorso comune che vede nel cibo e nella corretta alimentazione uno strumento fondamentale per il miglioramento della qualità della vita. Così, ancora una volta, Trevalli Cooper Latta conferma la sua mission di responsabilità sociale scegliendo di sostenere l'associazione in modo concreto e soprattutto non estemporaneo. Il percorso al fianco della Lega avrà infatti una durata triennale e, cosa ancora più significativa, avrà un suo sviluppo tangibile nel finanziamento da parte dell'azienda dell'ambulatorio di logopedia del nuovo centro nazionale di prossima costruzione ad Osimo. Paolo Fabiani, presidente Trevalli Cooper Latta, è una iniziativa questa a 360 gradi che punta soprattutto sul prodotto di qualità? Sì, il discorso di qualità c'è a 360 gradi sull'azienda, quindi Trevalli è un'azienda che da anni fa qualità, fa innovazione, insomma è di fatto un'azienda leader, è un'azienda importante, fa qualità anche quando va nel sociale, quindi ecco qua anche la collaborazione con la Lega del Filodoro perché è un'azienda importante che sicuramente apporterà valore aggiunto a noi e speriamo anche noi di portarlo a loro per quello che possiamo. Presidente Fabiani, per quanto riguarda l'alimentazione, può nascere qualcosa di importante, soprattutto per quanto riguarda la sicurezza dei cibi? Allora il nostro staff sta lavorando, speriamo insomma che possa nascere effettivamente un bel progetto come è stato già presentato, sull'alimentazione è diciamo, noi lo vediamo anche da parecchie trasmissioni insomma dove l'alimentazione è tornata un po' alla ribalta, la gente vuole cibi semplici, tranquilli, che siano sicuri e quindi questo è quello che ci proponiamo. Rossano Bartoli, segretario generale della Lega del Filodoro, ecco alimentiamo la vita insieme, è un grande progetto per migliorare la qualità della vita dei piccoli ospiti del centro e non solo. L'alimentazione credo che sia importante per tutti, nel nostro caso cioè quando parliamo di bambini sordociechi, di bambini pluriminorati è fondamentale, nel senso che aiutare questi bambini ad alimentarsi bene, ad alimentarsi da soli, ad alimentarsi in autonomia e a volte attraverso il cibo portare avanti un progetto a livello educativo, riabilitativo che sviluppi l'autonomia di questi bambini e aiutare soprattutto le mamme e i papà e quindi anche le famiglie, credo che sia un impegno da sottolineare e quindi noi ringraziamo naturalmente Trevalli e Copperlatte di questa opportunità e di questo progetto che ci consentono di portare avanti. Per il futuro avete studiato qualcosa che sia di tipicità per quanto riguarda gli alimenti a quelle persone che mancano di vista e di udito? Ma sì, il discorso degli alimenti nel mondo della pluridisabilità soprattutto quando mancano dei sensi è un discorso molto molto importante sul quale noi stiamo studiando da anni perché sappiamo che attraverso anche il gusto noi riusciamo a far comunicare persone che sono impossibilitate o che sono fortemente limitate dal momento che mancano di vista e di udito quindi c'è un'enfatizzazione a questo punto quindi sono argomenti certamente da promuovere sempre di più con Trevalli pensiamo che nei prossimi tre anni faremo qualche progresso significativo. Nevio Lavagnoli, coordinatori Agri Insieme Marche dove c'è la qualità c'è Agri Insieme perché l'agricoltura è vita? Assolutamente sì, il vero problema come sempre è che va recuperato sul piano culturale la concezione che l'agricoltura è vita ovvero che dalla qualità dell'agroalimentare italiano parte una vita migliore a maggior ragione quando in forma cooperativa ovvero associata facendo dello stare insieme uno strumento anche della solidarietà per gli agricoltori ma anche per la società in questo caso la sinergia con la lega del filo d'oro è essenziale. Ecco, sinergie significative con altre realtà che portano avanti questo progetto o il latte che fa da protagonista? Il latte è essenziale per qualsiasi questione adesso se facciamo una battuta molto semplice non c'è un prodotto tipico non legato al latte dalla cacciata d'urbino al formaggio di talamello alla forza di talamello e quindi il latte non solo come strumento di salute ma anche come strumento di solidarietà e di sviluppo economico.